In questa puntata, ludopatia, voto unanime su nuova legge contro i Ticket Redemption. Partecipazione, approvate tre proposte di risoluzione. In Cantaborgo, il festival delle arti di strada a Sena Lunga. Inaugurata la mostra Bear and Bull. Sarà vietato ai minori l'uso del Ticket Redemption, le macchine da gioco che all'esito della partita restituiscono al giocatore dei punti sotto forza. Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge con un voto unanime. È un divieto, è un divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi Ticket, tagliandi, che troviamo nelle sale giochi per i minori. Per i minori, perché ci troviamo di fronte a ragazzi deboli e che più giocano, si crea un meccanismo gioco-cratificazione. Un meccanismo subdolo. Subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio. Gioca, spende, ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce, diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria. Per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo perché è passato in Commissione Sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Siamo stati tutti favorevoli, quindi all'unanimità, siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e come ho detto in aula potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria perché se si fa un buon uso di questa legge si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi, di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati. Una legge importante inizia il proprio percorso legislativo quando io ero Presidente della Commissione Sanità, quindi un test al quale sono particolarmente affezionato, ho fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione, questo è lo spirito della legge, una legge che è datata dalla scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione, serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo alla quale sono e rimango particolarmente legato. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie, cioè il ticket redemption che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccoli valori ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani, ai ragazzi, è diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, nostro esponente regionale, oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo ad esempio sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Insomma la lotta alla ludopatia è qualcosa che deve essere fatta ogni giorno e soprattutto ha bisogno di controlli, controlli e sanzioni esemplari per chi mette a repentaglio il sistema sociale e anche i nostri giovani con questi che sono né più né meno, che non innocui giochi ma vere e proprie induzioni alla dipendenza. Il Consiglio regionale ha approvato tre proposte di risoluzione dopo l'informativa tenuta dall'assessore regionale Stefano Ciuofo sulla proposta di modifica della legge regionale 46 del 2 agosto 2013 sul dibattito pubblico e la promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320 mila euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione, rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Abbiamo affrontato il tema della partecipazione che è un tema che alla Lega sta particolarmente a cuore, però abbiamo fatto presente all'assessore Sciuoffo che ha presentato questo aspetto relativo alla partecipazione e comunicazione in aula che la partecipazione è un tema estremamente serio e concreto e che quindi al di là degli aspetti di regolamentazione e di modifica delle normative è poi sul territorio e nei fatti che si misura la reale concretezza del rispetto della partecipazione. Noi abbiamo ricordato in aula quanto la partecipazione sia importante per la Lega, ma quanto tradizionalmente anche la sinistra ha sempre fatto della partecipazione un vessillo, ma che di questo passo c'è il rischio che la partecipazione faccia la fine del sol dell'avvenire, tramontato sulle pagine di Vogue insieme al segretario nazionale del PD e all'armocromista. Premetto di essere in generale a favore della partecipazione, inteso però come strumento efficace ed effettivo di coinvolgimento di quella che è la pubblica opinione rispetto a temi centrali. In realtà per come è stata posta la questione oggi rischia di essere una mera dichiarazione di intenti, perché se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita sui rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello regionale, anche laddove penso alla questione aeroportuale si sarebbe potuta attivare. Quindi la sfida è se si crede davvero nella partecipazione, allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano il futuro della Toscana e quindi a un reale coinvolgimento dei territori. I percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana, da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto, abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilevi critici per cercare di migliorarne il quadro, ne stiamo discutendo con la maggioranza. La partecipazione è uno strumento che la regione toscana ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Ma la verità è che bisogna capire quante volte la regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata per delle formalità oppure se viene implementata nel modo più corretto e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Tra i due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state la darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi, guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute, è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono. Perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno perché non è questa la partecipazione che cerchiamo. Il Festival delle Arti di Strada Sena Lunga, arrivato alla sua sesta edizione, si svolgerà dal 14 al 16 luglio. Tra le novità di quest'anno è sicuramente il coinvolgimento di artisti provenienti dalle città gemellate della Francia e del Regno Unito. Oltre 30 spettacoli tra teatro di strada, danza, illusionismo, musica, danza aerea, spettacoli con il fuoco, acrobazie, la scenografia sarà lo spazio urbano e gli strumenti scenici ridotti all'essenzialità, un costume, una maschera, un copricapo. Il repertorio è molto vario da lasciare grande spazio all'improvvisazione per adattarsi all'atmosfera del borgo, all'umore della gente e dei passanti che possono arrivare e partire all'improvviso. Un appuntamento che torna puntuale nel culmine dell'estate, è l'iniziativa più importante del Comune Sia Lunga del periodo estivo oramai che viene riproposta da anni, quindi un appuntamento che è atteso dai cittadini ma ormai da un po' di tempo anche da altre parti della Toscana, quindi dall'Umbra perché noi siamo nella parte sud della Toscana, quindi un richiamo anche da quella regione di Vicenza. Quindi è un appuntamento di cui andiamo fieri, dove ci dà l'opportunità di rivivere il borgo, la piazza del paese in maniera più naturale, anche lontano dal trantrame, dalla frenesie dei giorni normali. Ritorna in Cantaborgo e ritorna una delle iniziative più belle che noi abbiamo la possibilità di raccontare alle cittadine e ai cittadini della Toscana, un modo per ricreare socialità, incontro, per raccontare arti differenti, un modo per raccontare quanta bellezza c'è a Sinalunga. Andate, visitate Sinalunga, gustatene la sua bellezza, saranno davvero giorni stupendi in cui ci si può divertire e si può sorridere. Un evento che è inusuale nelle nostre zone e molto particolare perché si vedono delle performance che sono diverse, che sono dedicate sia ai più grandi che ai più piccini e che danno la possibilità di conoscere anche alcune arti che sono meno visibili nelle nostre zone. Fra l'altro sia il patrocinio del Consiglio regionale che il contributo del Consiglio regionale è sempre attento a questo tipo di realtà proprio per sviluppare anche il turismo nelle nostre realtà, nel comune di Sinalunga che fa parte della Val di Chiana Senese. Inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzelio Ciampi del Palazzo del Pegaso, la mostra Bear and Bull, esposizione tra pittura e scultura dell'artista Mauro Ghinassi. Ghinassi è un poliedrico artista retino che vanta numerose collaborazioni con gallerie d'arte. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private tra performance istintive e riferimenti culturali che spaziano dal primitivismo rupestre alle ultime tendenze dell'arte contemporanea e imbidico tra scultura, pittura e parola. Il tema è affrontato nell'accezione dell'uomo comune rispetto a questo gigante che è la macrofinanza, una deità moderna, una sorta di golem della nostra società. L'uomo comune si approccia con superstizione, timore e pregiudizio all'idea di un qualcosa che nell'accezione degli iniziati a questa grande cultura della finanza è una prevedibile formula matematica. E qui l'approccio è appunto la visione dell'uomo comune versus la visione del conoscitore del settore. E quindi si approccia dalla visione di simboli esoterici che sono propiziatori di prosperità alla visione di tutte le conoscenze acquisite negli ultimi anni nella capacità provvisionale della macrofinanza. Quindi dalle candele giapponesi ai cicli di gamma a tutte quelle cose che si usano comunemente per cercare di capire dove andrà questo grande mostro, cioè il mercato. Le sue opere non sono di linguaggio immediatamente comprensibile. Richiedono un approfondimento e richiedono soprattutto la considerazione di quale è il pensiero finale che vorrebbe muovere Mauro. E' il potere, lo strapotere del mercato finanziario internazionale rispetto ai cittadini e lasciatemi dire purtroppo spesso anche rispetto alle istituzioni. Credo che sia una mostra che farà sicuramente parlare perché ci pone di fronte a un tema che è quello del rapporto con la borsa, con il mercato internazionale, che è sempre più imponente e impattante sulla vita dei cittadini. Ecco che i cittadini vedono queste opere e cominciano a riflettere su quelle che è oggi il peso, direi determinante, del mercato verso gli altri soggetti. Grazie a tutti.